Venerdì 30 maggio, Radio Beat Ethers presenta dalla discoteca Alcatraz di Milano il Closing Party della stagione invernale. In diretta nazionale da mezzanotte e trenta, in console special partner DJ, con la migliore musica dance anni novanta. In Russia Claudio Berti, Venerdì 30 maggio, in diretta da mezzanotte e trenta, su Radio Beat Ethers.